ciao a tutti vediamoci insieme come fare le panelle le panelle siciliane questa è la farina di ceci che ho scelto biologica e macinata a pietra allora qui mi preparo l'acqua le dosi le trovate in descrizione l'acqua fredda e andrò a passare la farina perché come vedete rimane molto granulosa quindi va passata setacciata per non formare grumi tutto a freddo poi dopo portiamo sul fornello mesco metto farina e mescolo bene con la frusta come sapete la farina di ceci non contiene glutine è un alimento proteico è ricchissimo di vitamine sali minerali quindi anche molto molto adatto per per le diete bene sciolgo bene continuo a sciogliere bene la farina con la frusta e poi la porto sul fuoco ok allora all'inizio bisogna girare spesso perché altrimenti si attacca sul fondo ci metto il sale con il pepe e il prezzemolo lo metto un po' più in là prima di spegnere quindi bisogna girare verso poco 20 30 minuti fino a che non si addensa continuiamo a girare o con la paletta oppure continuiamo con la frusta vediamo come vedete si addensa sotto questa poi una farina biologica non è raffinata quindi macinata a pietra in commercio c'è ce ne sono scritto proprio per panelle quindi non so forse forse quelle che non sono macinata a pietra non so dirvi io ho preso questa ho trovato questa e mi sembra molto buona metto anche il prezzemolo e continuo a girare aspetto che si addensi allora ci siamo quasi ancora lenta ci vuole ancora tempo ho abbassato un pochino perché poi quando inizia a sobollire abbassiamo proprio per non farla attaccare vedete ho messo ho iniziato a 6 il punto fuoco adesso è a 4 ok eccola qua allora la togliamo dal fuoco e adesso ci sono diversi modi per per stenderla diciamo così per formare le panelle io adesso mi metto un po' sul piattino per vedere se va bene ma penso di sì perché poi se diventa troppo dura si ha difficoltà a stenderla allora c'è chi la mette negli stampi del plum cake e poi la fa freddare e poi la taglia a fette io voglio provare prima con con un piattino e poi a stenderla già sottile pronta poi da ritagliare quindi adesso provo un attimo sul piattino ho messo troppo olio lo ungo un pochino con l'olio e vediamo come viene si può fare anche con i piattini di plastica di carta stendo un pochino qui vediamo però certo facendo così ci vuole tantissimo tempo poi si lascia raffreddare e si toglie si toglie dal dal piattino perché quando si raffredda si stacca facilmente io voglio usare quest'altro metodo ora sulla carta forno sul piano di lavoro ce la verso sopra e poi con la paletta la spiano però voglio spianarla per farla venire un pochino più regolare questo sempre mentre è calda perché se si fredda poi non riuscite più a lavorarla metto un altro foglio sopra foglio sopra scusate che ho oliato sotto e così con il matterello l'allungo così viene un pochino più precisa come altezza diciamo bene comunque voi usate il metodo il metodo più semplice credo mettere tutto l'impasto in un contenitore tipo un cake e poi dagli a raffette quello è il metodo più semplice da fare allora adesso vediamo dopo averla fatta raffreddare vediamo prima il piattino che è quello che ho fatto prima vedete si stacca deve essere così si stacca quindi se volete preparatevi questo per farlo rimanere rotondo altrimenti poi vi faccio vedere come farò con l'altro pezzo le panelle rotonde di solito si usano per mettere dentro i panini non è proprio perfetta però se vogliamo possiamo aggiustarla con coppapasta che adesso io non ho di questa misura però gli do una giustatina così e via però diciamo che la vedo molto complicata fare farla sui piattini e vediamo quest'altro metodo non è proprio regolare però insomma faccio la taglio così faccio le strisce i quadrati e poi anche per traverso e poi il quadrato posso naturalmente prima aggiusto gli angoli così tolgo tutto l'eccesso per fare un pochino più per pareggiare diciamo così e poi il quadrato va tagliato poi a triangoli adesso vi faccio vedere allora ritaglio così per traverso sì io credo questo metodo è molto più veloce vedete o friggete così che sono pronte per mettere dentro il panino oppure ritagliate per fare i triangoli allora vedete sono belle belle pronte già da friggere in questo modo è più veloce perché si raffredda prima l'impasto e quindi si può andare subito a cuocere ok allora mi vado a mettere il tegame con l'olio olio di semi e lo faccio scaldare bene così inizio a cuocere le mie panelle faccio per vedere se è caldo faccio una prova allora deve essere abbastanza caldo perché altrimenti mettendole dentro si sbriciolano invece no devono impattare proprio con l'olio caldo le facciamo cuocere bene bene da una parte ne cuociamo poche per volta quindi due a seconda del tegame che mettete massimo tre ok aspetto per girarle beh queste sono le prime le prime non vengono mai bene poi mano in mano che cuociamo vengono meglio devono venire belle croccanti fuori e belle dorate allora tolgo le prime naturalmente poi le assaggio subito e vediamo come sono adesso metto le altre queste sicuramente verranno verranno meglio ok io l'ho mangiato per la prima volta a roma in un in un locale diciamo così un ristorante siciliano me l'ho fatta assaggiare un'amica di mia figlia che è siciliana mi sono piaciute tantissimo adesso vediamo come vengono le mie allora assaggio subito le prime però forse le dovevo far asciugare meglio o cuocere un pochino di più adesso vedo le altre le farò sicuramente meglio sono un pochino si croccanti fuori ma no devo farle cuocere un pochino di più dentro sono vedete sono quasi vuote allora eccole qua queste vedete sono più più cotte più croccanti quindi devono assumere questo bel colore dorato ok bene io direi che vanno bene adesso io le assaggerò come mi ha suggerito un amico con il limone un po di pepe e poco poco sale perché sono già saporite il sale che abbiamo messo già dentro e bene amici vi invito a farle sono sono veramente squisite un saluto a tutti e ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao